Ieri se ci avete seguito lo sapete che eravamo in esterna, eravamo dal Prestinè a farla diretta chissà dove andremo la prossima volta, adesso lo vediamo, stiamo lavorando su altre destinazioni in giro per la città o se avete un'attività commerciale, volete che veniamo lì a fare un po' di entertainment, un po' di cumpa facciamo un po' di cumpa la mattina, noi ci siamo, dovete aprire alle 7, quello sì però anzi anche se è mezzo che arriviamo però insomma siamo lì e soprattutto potete diventare protagonisti della città siete protagonisti tutte le mattine invece grazie alla vostra presenza qui in puntata con noi, con i vostri whatsapp, con i vostri racconti quindi siamo ben contenti anche quest'oggi, anche questo mercoledì giornata collinetta siamo a quel punto della mattinata, della scuola della settimana in cui si arranca un po' poi in realtà il mercoledì è tutta discesa quindi mi raccomando cerchiamo di aiutarvi facendo questa discesa cerchiamo di aiutarvi anche con un po' di musica e un po' di energia e un po' di musica del passato, del presente insomma cerchiamo di farvi compagnia, è quello che possiamo fare tutte le mattine qua su Crystal Radio a Good Morning Milano dove vi ho, eh sì, I Got You Babe C'è un Sony, I Got You Babe 1960, non ce l'hanno scritto, vabbè comunque quegli anni lì diciamo non so perché ogni tanto mi metto dentro in cose che non dovrei mettermi cioè fatti furbo, se non c'è scritto non buttarti in quella roba lì comunque vabbè e invece io sempre che mi ci butto dentro e faccio burdelle, faccio casino vabbè ok, comunque 1965, I Got You Babe, Son & Cherry comunque, 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 sta piovendo ecco, così do questa notizia, credo che va bene non c'era bisogno che ve la dessi io dalla radio ma insomma quello è quello che sentiamo in questo momento battere sul tetto del nostro studio anzi potrebbe essere che magari lo siete anche voi non è solo lì da voi ma è anche qui in radio che sta piovendo comunque, buongiorno a tutti gli amici di Good Morning Milano questo è il Whatsapp di Alberto che ci scrive appunto al 3317853555 e come previsto piove e adesso sarà così fino al weekend sarà come al solito una giornata problematica per chi deve muoversi in città e sì, perché anche Corriere della Sera Milano dice maltempo a Milano, previsioni in arrivo una settimana di piogge torrenziali da ieri sono anche accesi i riscaldamenti ma settimana davvero davvero di piogge torrenziali il 2024 è stato l'anno più piovoso più piovoso, più piovoso è difficile questo, è un po' come li vuoi quei kiwi, no? così, più piovoso, più piovoso è stato l'anno più piovoso degli ultimi due secoli e mezzo già caduti 1350 mm di acqua allora, sapete che su queste cose ogni tanto però devo sempre starli a sfocugliare a rompere le scatole non sappiamo quant'è cioè nel senso possiamo sapere quant'è, ok? cioè faccio la conversione, va bene posso sentirevi anche in centimetri, in metri, come volete ma cosa vuol dire caduti 1350 mm di acqua? cioè sto metro e passa... cioè non capisco cioè nel senso cosa vuol dire che c'è tutta l'acqua cioè dobbiamo calcolare 1350 mm di acqua dal suolo fino al bordo della mia stanza cioè non ho capito, nel senso non ho mai capito bene come si calcola questa cosa delle cadute anche perché sono veramente veramente tanti quindi comunque però il dato invece importante è che è stato l'anno più piovoso degli ultimi due secoli e mezzo attesi per questa settimana livelli di allerta da esondazione per l'ambro ed apertura delle vasche di laminazione del Seveso mi piace che non scrivono più esondazione del Seveso ma scrivono apertura delle vasche di laminazione che è la stessa indica cosa perché poi la vasca si lamina, si apre ma poi l'acqua comunque esce anche fuori dopo perché non è che comunque non ci sono più esondazioni del Seveso comunque il 2024 si candida quindi ad essere l'anno più piovoso nella storia di Milano o almeno negli ultimi due secoli e mezzo appunto dal 1763 analizzato dagli esperti si vede che appunto il record ormai è più che superato solamente da gennaio a settembre sono già caduti 1350 mm di acqua con una media annuale che è intorno ai 980 mm questo è l'articolo che appunto trovate su Corriere della Sera Milano dateci un'occhiata è interessante e a margine poi dell'articolo appunto viene ricordato che da ieri si possono accendere anche i riscaldamenti c'è da dire che in realtà la temperatura al momento non sta crollando quindi si sta ancora abbastanza bene ieri sera intorno alle 11 di sera c'erano quasi 18 gradi quindi insomma neanche così proprio messi male attualmente in questo istante siamo tra i 15 e i 17 gradi vedo dai vari monitor che abbiamo qui in studio che non ho capito perché non si parlano mai e abbiamo sempre due temperature diverse in due monitor diversi però diciamo che è quello avremo minime intorno ai 10 gradi punto di notte e massime sui 18 gradi quindi insomma dovremmo riuscire a mantenere e a tenerci ancora per qualche giorno però volendo potete già accendere i riscaldamenti da ieri da ieri si possono accendere Shakira con Soltera alle 7.20 qui su Crystal Radio 3317853555 e si sta piovendo non poco quindi città messa alla prova anche oggi e anche tutta la settimana appunto andrà fino al weekend con queste piogge prima prova diciamo di grandi acquazzoni con la M4 aperta quindi capiremo un po' come va vero è che è così negli inferi la M4 praticamente è così profonda e negli inferi che il problema forse è se piove a Pechino non se piove a Milano cioè che va fatto il giro dall'altra parte quindi bisogna veramente pensate che stavo guardando un po' di dati sono dati che trovo su internet non certificati quindi prendeteli un attimino con le pinze sembrerebbe che la stazione di Dateo appunto della M4 è la più profonda delle stazioni della metropolitana milanese fino al 2015 prima dell'apertura della di Dateo in realtà la stazione di lotto della M5 che è quella che sta sotto praticamente alla M1 invece adesso è appunto quella di Dateo prima così giusto la classifica prima di quella di lotto della M3 della M5 scusate era quella di Duomo della M3 quindi diciamo che le tre attualmente però dopo vediamo perché in realtà la M4 ne ha alcune veramente veramente profonde quindi dobbiamo andare a vedere le altre a che profondità sono comunque in teoria la la M4 è una di quelle con le stazioni più profonde attualmente anche se comunque la media è una profondità di 20 metri per la linea poi in realtà appunto si arriva anche a stazioni molto molto più profonde fino a penso mi sembra di 5-30 metri anche qua prendetelo un po' con le pinze perché appunto sono notizie che trovo su vari siti non proprio con certificazioni come dire non ci sono degli ingegneri che mi hanno scritto sta roba quindi prendetelo un po' con le pinze perché vi parlo di ATM perché vi parlo di maltempo perché oltre al maltempo venerdì avremo anche lo sciopero dei mezzi sciopero del trasporto pubblico leggo da Repubblica venerdì 18 ottobre previsti disagi sulle linee ATM di metro e mezzi di superficie l'agitazione indetta dal sindacato Alcobas come al solito ci sono le fasce l'agitazione potrebbe avere ripercussioni sul servizio in città per ATM dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio ok quindi queste sono le due fasce come al solito ci sono anche mi piace sempre questa nota a margine quando c'è il comunicato di ATM ma giustamente è così anche ricordate i disagi sulla funicolare come brunate perché è quella gestita da ATM quindi anche lì ci sarà lo sciopero con gli ore un po' diversi però non sto a dirveli prima che vi incasinate l'ultimo sciopero indetto dalla stessa sigla sindacali era stato il 26 giugno scorso e aveva ottenuto un'adesione del 17,4% tra i lavoratori ATM quindi bisogna vedere se questa volta si doppia ancora con un'affluenza più o meno bassa insomma poi anche lì bisogna capire quanto vuol dire basta cioè 20% è poco è tanto si sarebbe parlare con un sindacalista e capire cosa significa questa affluenza al 17,4% comunque venerdì sciopero dei mezzi 8,45,15 18 fino a fine del servizio ATM Milano se avete degli amici a Salonico o a Copenaghen come dico sempre fate una chiamata e sentite che anche la sera ATM fa sciopero anche là sarebbe interessante capire se c'è solidarietà tra le varie situazioni di ATM non credo comunque va bene allora ci fermiamo un attimino adesso due consigli per gli acquisti un paio di canzoni poi torniamo qua sempre per raccontarvi un po' quello che ho sui giornali da leggere c'è un bel po' di notizie qui davanti da darvi e poi abbiamo anche degli ospiti oggi parleremo di giornalismo quindi insomma avremo anche degli ospiti giornalisti un ospite giornalista che ci verrà a raccontare cosa vuol dire scrivere per Milano e scrivere di Milano questa è Good Morning Milano questa è Cristal Radio 96.2 FM da plus e tutto in altri modi app sito tutto quello che volete tell me tell me yeah you see the light here in Good Morning Milano yeah you see the light scusate ogni tanto mi prende quando arriva così quando mi arriva il James Brown dentro di me in questo caso era Etta James con tell mama funziona così funziona così you see the light get out of the body get out così mi viene così comunque buongiorno come state come va vi piace uno che urla alla radio alle 7.34 minuti della mattina e che vi ha appena detto che venerdì ci sarà lo sciopero dei mezzi pubblici siete contenti siete contenti bella Milano ecco appunto ho lasciato lo spazio sono come come è che si è detto Topolino sono quei cartoni animati dove Topolino fa e adesso prendiamo la borsa cosa ci sarà nella borsa sta zitto perché voi dovete indovinare c'è la porta chiusa prendiamo un lanciafiamme o la chiave e voi dovete dire la chiave anche se io da bambino forse avrei detto il lanciafiamme comunque dicevo la sciopero dei mezzi il venerdì 18 8.45 15 e poi dalle 18 fino a fine servizio ATM che ha rinviato a marzo anche il passaggio dal biglietto di carta diciamo alla tessera elettronica che poi continuiamo a chiamare la tessera elettronica ma alla fine è un biglietto di carta con un NFC dentro nel senso che so che sono piccole ma nel senso che non è proprio una tessera come potreste immaginare quelle tipo il banco con la tessera dei mezzi pubblici è un biglietto un po' più rigido perché può essere ricaricato un biglietto ricaricabile diciamo una cosa così quindi lo fate una volta poi dopo lo potete ricaricare questa cosa appunto stop definitivo dei ticket cartacci che doveva essere in realtà adesso praticamente entro fine anno e invece viene rinviato a marzo il passaggio dal biglietto alla tessera elettronica in alcune stazioni ci sono ancora i vecchi tornelli quindi non si può fare tra parentesi questa cosa dei vecchi tornelli è tornata molto in auge in queste ore perché? perché la M4 ha dei vecchi tornelli ancora cioè li hanno cambiati quasi tipo la M5 credo che abbia ormai quasi solo tornelli nuovi la M1 ne ha un bel po' la M4 ne ha tantissimi vecchi perché sono installati già qualche anno fa in alcune stazioni e quindi ha troppi tornelli vecchi di varie tipologie modello ancora quelli dove puoi pagare col bank ad esempio ma devi appoggiarlo su una scatoletta nera che è stata appiccicata col biadesivo sopra al tornello non è quelli belli nuovi con tutto un tablet nero che ti dice semplicemente passa o non passa ecco no quella roba lì non sono tutti così e quindi visto che quel biglietto lì funzionerà solo con l'appoggino cioè devi appoggiarlo per passare non devi più inserirlo allora non non si passa cioè non si passa subito questa cosa qua si va a marzo quindi a marzo ho inviato questo passaggio al biglietto elettronico metropolitane che continuano a far parlare di sé perché ovviamente aperta la 4 si parla già della 6 ovviamente metropolitana Milano quali sono i dossier aperti in questo momento M5 a Monza da Mo rossa a Baggio e vi ricordo ancora sempre porto qui proprio porto la mia esperienza personale 1975 i miei genitori fanno casa al villaggio Cavour che è una frazione di una frazione di settimo milanese comunque praticamente a Baggio più o meno e gli viene detto eh signora mia lei si che ha capito tutto dalla vita qui arriverà la metro rossa e questa casa qui vedrà cosa non sarà questo posto e infatti non è ancora arrivata comunque 1975 vabbè e poi ovviamente il sogno della sesta linea del futuro della grande rete di ATM Criminals Megan Trainor alle 7 e 40 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano vi ricordo sempre il 96.2 FM il Dub Plus in tutta Lombardia e l'applicazione per iOS e Android per cui potete ascoltarci ovunque nel mondo voi siate poi c'è anche il sito internet cristalradio.it che è quello comodo da usare mentre fate finta di lavorare come tutte le mattine invece che ascoltare noi Comunque Corriere della Sera Milano Corriere della Sera Milano intervista molto interessante di Sara Bettoni al AD amministratore delegato di Trenord che è il signor ve lo dico Marco Piuri 64 anni direttore generale di FNM società partecipata in maggioranza dalla regione che si occupa di mobilità integrata e allo stesso tempo guida anche l'azienda appunto di trasporti due ruoli che ora ritiene non più conciliabili e che quindi ha appunto deciso di lasciare la poltrona lui dice ha voluto di aver scelto di aver deciso anzi di lasciare la poltrona non sotto pressioni di questo momento ma anzi più di un anno fa quando ha capito che insomma FNM aveva un fatturato fino al 2018 di 200 milioni di euro oggi sono 620 quindi insomma c'è bisogno di più attenzione è cresciuta e si occupa di autostrade start up e quindi insomma ha bisogno della mia attenzione e anche Trenord ha bisogno di un'attenzione invece particolare e quindi ci servirà un nuovo amministratore delegato la domanda però che la giornalista fa subito è lo sanno bene i pendolari che c'è bisogno di attenzione perché stiamo parlando che a settembre di quest'anno la puntualità dei treni di Trenord è calata è calata al 75% è il dato più basso da quando sono manager dice appunto l'amministratore delegato oggettivamente chi usa il treno l'ultimo mese e mezzo ha trovato un servizio peggiorato possiamo solo chiedere scusa e dire che stiamo lavorando a testa bassa per risolvere i problemi ma vorrei anche far capire che è il sistema che ha delle criticità non Trenord e basta allora mi piace perché è uno scarico a barile fino a metà nel senso che dice è il sistema che ha delle criticità quindi stai per scaricare tutto il barile però dice non Trenord quindi ormai praticamente l'hai girato tutto il barile e basta però dice quindi non siamo solo noi in realtà ammette il fatto che comunque anche Trenord ha appunto delle grosse criticità che portano insieme la criticità di tutto l'altro sistema che riconosciamo benissimo ma che forse al pendolare poco interessa a chi maledire a chi mandare le proprie bestemmie la mattina interesserebbe semplicemente che il treni arrivassero in orario che poi ahimè ormai siamo arrivati al paradosso in realtà al pendolare non interessa neanche più che arrivi in orario al treno interessa che arrivi perché ormai siamo arrivati a questo il problema non è tanto il treno che mi arriva con 5 minuti 10 minuti di ritardo 20 minuti di ritardo che insomma non è male però è che a volte non arrivano proprio vengono soppressi vengono tagliati vengono cambiati vengono fermati insomma e quindi si capisce tutto il grande casino che c'è in ballo su questa cosa ad esempio le corse cancellabili per cause riconducibili a Trenord quante sono e insomma non è male la risposta in media 38 al giorno poco sopra le 35 dell'anno scorso un dato che non ci rende orgogliosi dice appunto la D visto che il nostro obiettivo era 25 ma allo stesso tempo questo aumento da solo non spiega il peggioramento del servizio allora anche lì a me dispiace che insomma anzi complimenti al signor Marco Piuri che insomma ci ha messo la faccia e ha detto si risponde alle domande ma pensare che l'azienda di trasporti di Trenord fondamentalmente l'azienda di trasporti regionale dei treni questo andiamogli dei nomi in italiano dica che il suo scopo è arrivare a non avere più di 25 treni cancellati al giorno ma sono tanti sono tanti cioè due o tre ma neanche zero forse boh forse sono io che non capisco bene Giorgio Maria Sara con Corro alle 7.47 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano stiamo andando avanti a leggere l'intervista appunto all'amministratore delegato di Trenord e anche lui è anche direttore generale invece di FNM Ferrovie Nord Milano quello fondamentalmente adesso si chiama FNM ma riprende da Ferrovie Nord Milano cioè l'acronimo è quello lì comunque è interessante perché appunto a un certo punto gli dice vabbè ma fammi capire la giornalista dice lui dice oggi ci sono 174 sui 214 in programma e hanno portato benefici su molte linee parla appunto dell'arrivo dei nuovi treni quindi ci sono arrivati già 174 dei 214 nuovi treni che servono ma in un sistema migliorare solo un elemento non è sufficiente quindi continuiamo a dire che non basta cambiare i treni cioè noi possiamo fare quello ma non basta quello e allora la giornalista chiede ma di chi è la colpa e l'amministratore delegato Marco Piuri risponde non è non si tratta di dare colpe ma di descrivere la complessità in media ogni giorno si registrano 22 guasti alle infrastrutture di RFI ok quindi altri due ai binari di ferrovie nord quindi perché molto evidente capiamo quindi questa cosa la complessità sta nel fatto che ci sono delle infrastrutture fatte da RFI che è la vecchia FS può intenderci comunque Trinitalia con la roba lì che sono appunto le infrastrutture nazionali più che altro ok poi ci sono i binari di ferrovie nord ok FNM e quindi siamo a 22 guasti di là due sui binari di ferrovie nord se il problema riguarda una tratta poco frequentata si risolve con poco ma se come è successo nei giorni scorsi capita in un nodo centrale come quello di Certosa le conseguenze sono tantissime ci sono poi gli eventi anomali legati a cause esterne come i rami sui binari o gli investimenti ok ne contiamo 28 al giorno quindi 28 al giorno che sono rami gli investimenti che poi in questo caso vuol dire incidenti cioè non investimenti finanziari ok incidenti mi spiace nel senso è un problema lì c'è un problema forse non tanto del mettere in sicurezza la zona quanto forse che alcune persone cercano questo investimento ed è gravissima come cosa cioè è molto triste anche socialmente parlandone ma è una cosa dei binari invece dei rami i rami sui binari cioè un ramo sui binari può fermare un treno evidentemente perché questi alberi stanno così vicino ai binari mi viene diverso la dico male però nel senso comunque e poi dice la giornalista ci sono anche i cantieri e lui dice no ma per fortuna che ci sono i cantieri sono stati aperti solo quest'anno 169 cantieri su tutta la rete che appunto permetteranno di incrementare la capacità delle linee di eliminare i passaggi a livello e anche qui io che ho visto un po' come funziona nel resto del mondo i treni i passaggi a livello ci sono ovunque perché noi dobbiamo spendere milioni e milioni di euro per togliere questi passaggi a livello solo perché la gente non è capace di star ferma al passaggio a livello e vuole passare tutti i costi e a un certo punto però io mi viene a dire cioè forse l'investimento non va fatto sull'infrastruttura vado su far capire che se vieni giù quella sbarra non passi anche se dici ma sì tanto prima che passa ce la faccio ce la faccio no non passi punto finito non stiamo di tanto a discutere no comunque e invece no abbiamo degli investimenti abbiamo i cantieri quindi se prima potevamo avere tre cantieri no ne abbiamo 28 perché dobbiamo fare anche quello di passaggio a livello i cantieri servono però perché insomma serviranno tantissimo alla fine cosa ci dice anche nell'intervista molto lunga andate a vedere la leggera tutta che è molto interessante alla fine cosa ci dice anche beh il 2025 sarà un anno di cantieri quindi aspettiamoci un anno di cantieri sperando che poi ora delle olimpiadi tutto questo possa migliorare Total Angelina Mango la noia 7 e 54 minuti speriamo che non vi siate annoiati con l'intervista alla D di Trenord anzi è molto interessante la trovate appunto su Corriere della Sera su Repubblica invece trovate un'intervista molto interessante che è questa una bella discussione più che un'intervista una bella discussione con il direttore della motorizzazione civile di Milano Francesco Greco che parla di prevenzione sulle strade di educazione appunto alla mobilità e soprattutto che dice però attenzione da una stoccata al codice della strada voluto dal ministro Salvini che trerà appunto in vigore tra verrà approvato scusate nelle prossime settimane e dice le moto 125 in autostrada molto molto rischiato sì questo nodo non piace molto alla direttore appunto della motorizzazione civile di Milano che dice è pericoloso far andare quelle moto 125 secondo lui appunto dice è molto pericoloso perché bisogna stare attenti non è cioè non mi immagino ad esempio un autotreno che passa di fianco al 125 già solo lo spostamento d'aria è molto molto pesante e forte quindi bisogna fare educazione infatti nell'articolo poi vengono spiegate tantissime operazioni di educazione e di prevenzione anche agli incendi sulle strade che potete ci saranno appunto nelle prossime settimane in tutto il territorio della Lombardia soprattutto nella città di Milano con varie associazioni tra cui anche appunto però la motorizzazione civile che si sta muovendo non solo qua di Milano ma anche quella delle altre province andiamo ancora con un po' di musica e poi il giornale radio e poi torniamo qui di nuovo in diretta Good Morning Milano come sempre qui su Cristallo Radio fino alle nove e questo è Remy Stewart con Friends il nostro Cristallo History qui su Good Morning Milano Cristallo Radio 86.2 FM poi abbiamo il Dan Plus insomma lo sapete tutto quanto e c'è anche il 3317853555 che è il nostro numero di Whatsapp 8 e 13 minuti in questo istante ci ha raggiunto in studio l'ospite di questa mattina che è un collega un giornalista un giornalista del Corriere della Sera dell'edizione di Milano quindi chissà quante volte appunto anzi lo so quante volte abbiamo letto articoli suoi qui la mattina buongiorno e benvenuto a Matteo Castagnoli grazie innanzitutto dell'invito buongiorno Fabio buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie a te che mi dai modo di lavorare la mattina perché sennò io senza i vostri articoli non saprei come fare la rassegna stampa però l'importante insomma è esserci in un qualche modo quindi davvero grazie perché insomma tutte le mattine tu i tuoi colleghi della redazione di Milano del Corriere anche quelli degli altri testate locali appunto di Milano ci date modo di commentare di leggere di avere proprio un occhio vigile sulla città che insomma voi tutti i giorni battete come si dice in questo caso la copertura c'è diciamo i marciapiedi si marciano e bravo marciapiedi è proprio la parola iniziale con cui possiamo partire a parlare perché io ti ho chiamato in realtà dopo parleremo di cosa fate voi giornalisti a Milano di cosa stai seguendo in questo sitante ma il come sempre poi io rimango folgorato alle cose più bizzarre e io sono rimasto folgorato dal tuo lavoro da un articolo uscito ormai credo a fine agosto se non sbaglio male più o meno infatti ero rimasto stupito quando mi hai chiamato perché me ne ero scordato ancora prima ancora più vecchio ancora più vecchio comunque non ricordavo infatti che dice la selva di cartelli nelle piazze di Milano oltre 300 pali stradali nella sola piazza Repubblica esattamente e allora gli ho detto no vabbè ma cos'è questa voglio era stata una cosa così un po' curiosa nel senso è nata proprio passeggiando anche sullo spunto di alcuni colleghi insomma ritrovandosi venendo banalmente in redazione a lavoro in questa piazza che per chi diciamo frequenta Milano sa non essere enorme ecco però diciamo imbattendosi in un cartello stradale in un palo della luce in un semaforo nell'attraversamento pedonale e di fatto ti immergevi in questa foresta di segnaletica verticale in cui non sapevi dove tu scrivi tu scrivi in 80 metri ci sono 10 semafori uno ogni 8 uno ogni 8 perché diciamo il vero lavoro lì era stato contarli infatti la giornata intera infatti no mi ricordo era stata una mattina insomma dietro a contarli tant'è vero che ha una certa insomma oltre 300 a spanne a spanne a un certo punto perché ti va insieme la vista erano 315 320 però insomma ci siamo fermati più o meno su quel numero però senz'altro è un po' simbolico significativo giusto tu dici la linea tra ridondanza e necessità è molto sottile in questo caso perché il concetto riflettendo era stato proprio questo cioè capire la stratificazione urbana ne parlavamo verso la quale la città per ovvie ragioni crescendo sviluppandosi urbanisticamente va perché ovviamente in piazza repubblica passano i ciclisti passano le macchine passano i taxi passano gli autobus i tram quindi hanno bisogno delle rotaie i pedoni e quindi anche loro diciamo sono utenti della strada a volte dimenticati i poveri pedoni ci sono le cosiddette categorie deboli della strada come vengono definite però senz'altro dovendo tenere insieme tutte queste categorie in uno spazio che per ragioni è ristretto fa sì che debbano essere regolate ordinati in un qualche modo e questo crea quella selva di cartelli ripeto necessità che però comunque rende appunto quando ti ci imbatti strana ecco la visione visione strana poi ci sono anche quei cartelli incomprensibili tipo quello dell'area B e dell'area C che sono immensi che tu devi fermarti e stare lì una settimana a leggertelo tutto praticamente e quindi anche lì c'è oltre agli altri 300 e pasta che trovi intorno tra l'altro proprio lì in Piazza Repubblica c'è l'ingresso verso l'area C quindi diciamo c'è anche un cartello diciamo che in Piazza Repubblica non si fa mancare nulla e se vogliamo aggiuntere no parlando di Milano in Piazza Repubblica ci sono anche pali della strada che risalgono alle guerre mondiali ancora bombardati c'è ancora quello col famoso buco quindi diciamo ce ne sono tanti di tutti i tipi e però la cosa interessante appunto a capire è stato quasi un gioco io l'ho vista anche in maniera molto divertente però in realtà c'è una grande realtà dietro appunto quello che dici prima la stratificazione della città cioè la città cresce aumenta le necessità di movimento di regolamentazione anche della sua mobilità però poi non si capisce più a un certo punto dove finisce è un po' il concetto per cui le città se possono si sviluppano in verticale chiaro è che in alcuni spazi la necessità invece di svilupparsi in orizzontale o nello spazio che c'è è quella e quindi lì è appunto un caso un po' emblematico ma in città ce ne sono anche altre se riprendiamo vicende di cronaca penso a Corso Buenos Aires che è un altro diciamo punto dibattuto della città dove appunto adesso è stata fatta la ciclabile tra l'altro ci sono lavori di ammodernamento per renderla più verde però appunto i commercianti da un lato li abbiamo sentiti diverse volte dicono ma con la ciclabile che appunto è larga o comunque occupa parte della strada noi non sappiamo più dove scaricare quando arrivano i fornitori i pacchi e d'altro canto però appunto è una strada molto trafficata e i ciclisti lì la fanno quasi tutti i giorni che devono attraversare Milano magari da nord verso il centro al tempo stesso però devono passare le macchie e quindi diventa sempre un po' tenere insieme tutto mi rendo conto che a Milano ci sono tante esigenze non è per nulla facile non è per nulla facile noi parliamo ma però puoi fare io dico tutte le puntate io dico tutte le puntate che sono qua a tirare la giacchetta al sindaco poi alla fine dico però sindaco non lo farei mai il suo lavoro è facile parlare appunto tenerle insieme non è per niente facile le situazioni invece e le storie che tu racconti sulla città sono anche tante altre allora adesso andiamo con un brano e poi dopo torniamo perché voglio sapere un po' su cosa stai lavorando adesso non spoileriamo nulla la cronaca è sempre tanta e la seguiamo e capire un po' appunto com'è il lavoro del cronista a Milano Franco Mattiato con la cura la cura la cura che ci mette il nostro Matteo tutti i giorni quando scrive di Milano bisogna avere cura giusto questo Matteo è una città da quel punto di vista insomma che richiede attenzione nello sguardo e non solo e che cosa ultimamente ha tirato la tua attenzione che cosa appunto di cosa stai raccontando di cosa stai scrivendo in questo periodo allora uno degli ultimi fatti insomma che abbiamo seguito è stato l'omicidio di Rozzano quindi passiamo alla cronaca nera però ci sono tante realtà che stanno crescendo penso all'M4 che sabato è stata inaugurata nella sua totalità e che in un qualche modo vanno sempre in quella direzione di sviluppo urbano poi io l'ho provata per la prima volta ieri sera insomma stavolando degli amici e devo dire che è molto bella è molto carina sembra a me è sembrato in alcuni momenti di quasi non stare neanche a Milano ci ho detto ah però hai visto cosa siamo riusciti a fare siamo riusciti a mettere su un bel palinsesto anche lì di trasporto pubblico infatti devo dire che forse la vocazione anche europea di ATM che va a Copenaghen saloni si fa risentire ci sono diciamo vengono portate importate ok dopo di che ecco lì come si racconta appunto l'arrivo di una così importante infrastruttura all'interno di una città come Milano ma allora senz'altro c'è la descrizione di quello che è stato il progetto anche tutto l'inaugurazione istituzionale quindi il ministro Salvini insomma con il sindaco Sala e quello che ci raccontano però poi la parte secondo me più bella insomma che è anche quello il nostro mestiere ci dà la fortuna di fare è stare a contatto con le persone quindi il primo viaggio dei primi pendolari o dei primi passeggeri non l'avevo seguito direttamente io ma altri bravissimi colleghi insomma ti restituisce un po' anche le emozioni gli sguardi i sorrisi delle persone che per la prima volta dicono sono io il primo passeggero dell'M4 e quello è bello perché in un qualche modo è una città che si riunisce intorno a un qualcosa di nuovo e che lo apprezza lo valorizza quindi quello secondo me è sempre l'aspetto vincente alla fine del nostro lavoro raccontare le storie le persone è quello le storie le persone cioè raccontarle deve essere interessante anche perché si scopre tanto di questa città parlando con la gente la città la città alla fine è fatta delle persone e quindi diciamo da quel punto di vista non si sbaglia io ricordo uno dei miei primi diciamo servizi l'incontro con una signora che è soprannominata la sindaca del Corvetto Ida Ori che salutiamo magari salutiamo la sindaca del Corvetto e lei è un po' la memoria storica e popolare di quel quartiere e devo dire io ho fatto una camminata con lei in giro per Piazzale Ferrara Gabrieo Rosa che sono zone con delle criticità lo sappiamo tutti Piazza Angilberto via dei 500 però ti rendi conto che quella persona che abita lì da 60-70 anni ricorda cose che ora non ci sono più ma lo sa solo lei e quindi la sua importanza diventa fondamentale e ti porta poi a scoprire altre diciamo a darti altri spunti e a comprendere anche magari la contemporaneità e poi esattamente farsi delle domande che poi arrivano all'oggi e quello parlando di storie era la sua storia ma era la storia un po' di tutti bene allora Matteo rimani qui con noi adesso andiamo con un po' di musica due consigli per gli acquisti e poi torniamo ancora qua a parlare di Milano di scrivere di Milano di raccontare la gente di Milano di fare appunto il cronista a Milano qui con Matteo Castagnoli appunto del Corriere della Sera a Milano su Crystal Radio Good Morning Milano a fra pochissimo Ivano Fossati la mia banda suona il rock e invece Matteo Castagnoli la tua banda che musica suona non so se dovresti avere una banda io sono fan di Liga Bue quindi su rock possiamo andare se il Corriere della Sera a Milano fosse una banda che musica farebbe no non lo so diciamo ci sono credo tanti gusti musicali un jazz una jam session una jam session di jazz siamo tanti siete tanti quanti siete più o meno non ti sto chiedendo il board direi qualche centinaia ma perché non siamo sparsi in Italia tutti i colleghi locali insomma siete in tanti tra parte Matteo una cosa interessante è come sei arrivato al Corriere della Sera che tu hai fatto l'RCS Academy una bella esperienza ti va di raccontarcela? assolutamente era stato diciamo è sempre stato un po' il mio sogno fare giornalista tu ci avevi fatto qualcosa anche tu tu non sei di Milano io sono di Reggio Emilia ho lavorato ho collaborato per qualche giornale locale quindi rientra sempre un po' il tempo della cronaca locale e poi per varie vicissitudini anche di studio mi sono trovato a Milano ho scoperto questa possibilità e ho detto assolutamente insomma se posso imparare nel primo giornale italiano molto volentieri ed era diciamo quindi stata why not esattamente ed era stata assolutamente una cosa per imparare cioè non c'era nessun tipo di ho visto che c'è un articolo sul Corriere che parla di quella cosa lì quindi tu sei finito sul Corriere prima ancora di scrivere per il Corriere cosa interessante metagiornalismo sì no perché appunto il lavoro finale era stato tra i premiati insomma e quindi c'era stato questo ritorno però ecco devo dire che l'RCS Academy mi aveva trasmesso tutta una serie di consigli pratici questo credo il suo punto di forza solo una cosa teorica e neanche per sponsorizzare attenzione però diciamo era stato un elemento pratico quello che secondo me è stato vincente come scrivere un articolo che domande fare come attaccare un pezzo per non farlo diciamo nella maniera più scontata possibile per cui il lettore giustamente dopo tre righe insomma lascia e sfoglia la pagina quindi diciamo era stata un'esperienza molto molto bella assolutamente allora sul sito mi sono andato alla ricerca di cose scritte davvero ho scritto tantissimo ultimamente poi tra l'altro lo dico anche i tuoi colleghi diglielo se vogliono venire qua a raccontarci io sono contento io vorrei qua tutte le mattine visto che questo è un ringraziamento che vi faccio visto che tutte le mattine vi rubo gli articoli per fare la rassegna stampa quindi poi dopo io voglio ridare indietro dare un volto una voce in questo caso anche appunto a chi tutte le mattine ci racconta diciamo prima adesso stai seguendo molto la questione appunto dell'assassinio di Manuel a Rozzano temi complicati a volte anche nel senso cioè non è facile la cronaca nera insomma da questo punto di vista ti lascia un po' così alle volte detto ciò io credo che paradossalmente per quanto possa sembrare opposto ma la cronaca nera racconta la vita più forse che altre realtà che è un po' quello che mi ha portato ad avvicinarmi insomma a questo settore perché alla fine noi quando parliamo di cronaca nera non è detto a parte che parliamo solo di morti e quant'altro ma ci sono tante situazioni che possono portare raccontando la cronaca nera facendo cronaca nera a galla situazioni che tutti i giorni noi dall'ultimo al primo viviamo in giro per la città perché sono un po' le criticità che possono girare per Milano e quello effettivamente porta a riflettere su delle tendenze che magari ci sono non si vedono oppure che ci sono già ed effettivamente creano creano disguidi alle persone stesse penso alla situazione furti rapine insomma se noi uscissimo di qua e subissimo una rapina insomma sarebbe una cosa che ci tocca direttamente e quindi lavorare su questi temi in un qualche modo interessa tutte le persone tant'è vero che noi lo vediamo sugli interessi del sito cioè i click che ci sono quando si tratta di cronaca nera sono sempre importanti perché effettivamente le persone un po' ci si rivedono in queste storie che tu vai raccontare e il riconoscersi è alla fine uno degli elementi essenziali del nostro mestiere poi è chiaro ci sono vicende molto più delicate come può essere quella di Manuel di Rozzano e lì è anche più difficile perché ovviamente devi entrare in contatto con i familiari con in questo caso la fidanzata infatti e quindi la delicatezza il tatto umano è sempre molto ti senti sempre in difetto e quanto è difficile appunto andare dalla fidanzata per ammazzato e fargli le domande che devi fargli per il lavoro io tendenzialmente ad esempio in questo caso avendo intervistato la fidanzata non avevo fatto domande nel momento in cui l'avamo contattata le avevamo detto quello che vuoi raccontare insomma noi adesso siamo qui perché mi sembrava giusto nei suoi confronti per rispettarla poi è chiaro che in un momento così difficile vai a indirizzare con qualche domanda cerchi di smuovere perché rispondi magari anche a monosillabi però è chiaro insomma che il dolore delle persone va rispettato questo anche quando scrivi questo è un bel messaggio che insomma fa pensare anche bene fa avere un po' più di fiducia ancora nella categoria dico sempre che insomma la categoria dei giornalisti non è che proprio nutra tutta questa fiducia quindi invece per fortuna insomma dare anche questi messaggi serve per far capire che insomma non si è tutti brutti e cattivi non so come dire se si è professionista di informazione siamo meglio degli assicuratori no scherzo saluto agli assicuratori in ascolto no scherzo dico sempre le varie categorie amate dagli italiani come dire no scrivi veramente di tutto giustamente perché appunto devi raccontare tutto quello che c'è adesso leggevo ad esempio questa notizia che volevo che me la spiegassi perché l'ho letta nei giorni scorsi un po' velocemente un po' distrattamente Milano tassista fugge al posto di blocco e viene inseguito dai carabinieri guidava ubriaco sotto l'effetto di droga che la miseria se vuoi è una storia un po' curiosa nel senso che credo adesso vado a memoria nel sottopassaggio l'ingaribaldi via lesturzo praticamente questo tassista i carabinieri la sera del radiomobile fanno i posti di blocco i controlli fermando tutte le auto per verificare insomma in che stato si guida e hanno fermato anche questo tassista che è una certa appena si ferma poi stanno per fare il test riparte sgasa e va via tra l'altro a bordo va pure due clienti quindi tu immagini tu immagini i due clienti dietro che dicono dove siamo finiti è GTA e quindi dopo parte un piccolo inseguimento che finisce in stazione centrale dove riescono a fermarlo e gli fanno effettivamente l'alcol test ed era ed era positivo tra l'altro nel parasole aveva anche della cocaina adesso vado a memoria della droga quindi comunque sì però appunto la cronaganera si occupa anche di queste cose che come dire succedono e quindi succedendo non essendo italiani però interessanti anche che poi devo dire dovresti fare questo qui entra nella categoria veramente il genio della settimana comunque posso dire che fa il paio con codice Cisano Boscone leggevo qua adesso Cisano Boscone cane lasciato sul balcone senza cibo né acqua e quindi povero cane i camminieri quindi intervengono e tutto salvano il cane ma trovano droga nel frigorifero del padrone esattamente questo ha lasciato il cane sul balcone e quando sentono che il cane poverino sta male giustamente salgono a liberarlo però poi non si sa se è il fiuto del cane a questo punto forse la viudo fuori perché è un cane antidroga o la polizia o la polizia trovano i carabinieri trovano appunto quello che trovano nel frigo pensa che tra l'altro quel cane era stato salvato era un cane abbandonato e quindi era stato salvato dal supermercato dove l'aveva trovato questo signore questo ragazzo quindi se l'era pure portato in casa insomma ma è surreale capisco perché scrivi queste cose la città è fantastica è surreale ma perché alla fine racconti come ti dicevo prima non è solo morti è anche vita questa è vita sono persone capire perché succedono queste cose qui sarebbe un professionista per capire perché succedono certe cose nella mente di alcune persone però davvero sono storie che ti danno veramente l'idea di come forse noi altri che magari invece vediamo il nostro otticello è veramente variegata questa città la cosa bella secondo me della cronaca nera è quello cioè che ti rendi conto dello spettro umano della comedia umane dicevano quelli bravi cioè tu hai l'idea di veramente tutte le persone insomma che popolano Milano è interessante perché ti dico la verità che non sono un fan della cronaca nera per niente anzi io sono uno di quelli che un problema dovrebbe quasi esistere ma mi stai facendo cambiare idea invece sì perché comunque ti ripeto perché sei a fare il tuo mestiere bravo no più che altro sorprenderla bene no diciamo che magari appunto uno intuitivamente dice che la cronaca nera sono i morti no invece è importante dire che non è per forza solo quello ma anche quando si trattano di morti diciamo come nel caso di Manuel è una vicenda tragica ma nella quale in molti ci sono riconosciuti perché questo era un ragazzo che non aveva nulla stava tornando a casa non aveva precedenti non era mischiato in nessun contesto criminale magari che potesse stava tornando a casa da lavoro la sera dopo essere fatto il turno di notte al supermercato quindi chissà quante altre persone tornano a casa la notte e gli capita quello che gli è capitato quindi in un qualche modo sperando non succeda ad altri però ci tocca si sente parte di questa storia infatti l'immedesimizzazione è dietro l'angolo e giusta anche nel senso c'è un discorso appunto come dicevi che si capisce ma no devo dire che grazie Matteo mi hai fatto comprendere forse un aspetto della cronaca nera che non avevo mai ci penso poi pomeriggio ti mando un whatsapp per dire se mi hai convinto o meno va bene nel frattempo invece non devo convincervi per rimanere qui con noi perché so che siete all'ascolto in tanti e anche al 331-78-53-555 ci state scrivendo whatsapp grazie e soprattutto adesso vi lascio con un po' di musica e poi torniamo ancora qui per chiudere insieme a Matteo Matteo Castagnoli del Corriere della Sera Milano con la pesce con malvagità alle 8 e 49 minuti qui su Crystal Radio ancora con Matteo che anzi stiamo per salutarci Matteo siamo quasi arrivati alla fine dacci dai no non spoileracci oggi come funziona la giornata del giornalista della cronaca di Milano oggi tu esci di qui e dove andrai? oggi a casa a dormire oggi in particolare sono di riposo però diciamo tendenzialmente al mattino si gira si fa proprio quel mestiere di marciapiedi alla ricerca col cappello col taccuino dentro con l'impermeabile nera esatto no però appunto ci sono vari appuntamenti magari no che possono essere per chi fa il comune la cronaca bianca seguire il sindaco piuttosto appunto chi fa la cronaca nera c'è il giro stampo in questura e quindi diciamo si vanno così proprio a raccogliere no le notizie dopodiché il pomeriggio si fa un punto una riunione e si decide cosa va in pagine e cosa no e da lì insomma poi le pagine arrivano nel senso che vengono disegnate e noi le disegniamo ancora e che è una cosa molto carina insomma anche vintage se vogliamo e poi una volta che insomma arrivano sul computer e da lì si inizia a scrivere con quello che si è fatto le telefonate chiaro è che poi il bello della cronaca è anche che è imprevedibile quindi insomma stilare una giornata tipica c'è qualcuno che a un certo punto lo vedi prende l'impermeabile e deve scappare via oppure insomma quelle pagine disegnate che vengono strappate se ne devono rifare da capo da capo quindi ma poi invece tutta la parte del sito voi tutto il giorno praticamente la giornata tutto il sito sì tutto il giorno siete riporti a scrivere c'è proprio una redazione ad hoc che fa insomma che fa quello ed è molto utile perché devo dire che diversamente il cronista oltre a scrivere farebbe fatica insomma ad essere anche su quello sì sì beh insomma vi viene da dire se volete fare giornalisti è un lavoro che consigli? è un lavoro bellissimo nel senso che umanamente ti restituisce tanto tanto ti arricchisce e ti permette di avere una visione diversa sulle cose io parlo sempre giornalismo come vocazione insomma ma poi come in tutti i mestieri per carità però facendo questo so e conosco questo bisogna proprio volerlo insomma una cosa che ti deve che la devi sentire dentro beh no noi abbiamo la fortuna qui in redazione di vedere tanti ragazzi e ragazze appunto che arrivano con questa passione poi io gliela faccio passare nel giornale no scherzo anzi no io cerco di fomentarla e come però insomma vedo che torino avanti porterò anche il tuo esempio questo punto guarda che va senz'altro coltivare esatto la passione da sola non basta ci vuole tanto lavoro impegnarsi perché poi le cose arrivano insomma senz'altro bene allora Matteo grazie mille davvero porto le nostre salute tutta la redazione grazie a voi davvero se qualcun altro della redazione quelli bravi siamo tutti però mamma mia che bravo ecco allora tutti quanti quelle qualche centinaia va bene soppalchiamo in qualche maniera ci stiamo va bene grazie mille davvero grazie a voi Matteo grazie al Corriere della Sera tutti i giorni per darci spunti e notizie e magari ci si vede in giro a questo punto sui marciapiedi sui marciapiedi va bene dai buona giornata ancora Matteo continuiamo con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali perché siamo arrivati alla fine oggi è mercoledì la giornata collinetta volge al termine per noi per voi so che invece è solo all'inizio ma ce la farete grazie alla musica di Crystal Radio Grazie a tutti i giorni Grazie a tutti i giorni